Mi serve Ivarini, è stata una partita condizionata dai festeggiamenti? Oramai siamo a fine anno, è chiaro che nessuno vuole fare brutte figure, tant'è vero che sia da parte mia, da parte dei giocatori, perdere non piace. Però bisogna dire che noi quest'anno siamo stati una squadra che ha curato molto i particolari, che ha lavorato sempre di squadra, che lavorava di reparto. Ieri abbiamo fatto una partita totalmente in senso individuale, è chiaro che poi la Sernitana sotto quell'aspetto lì c'aveva qualche cosa in più. Però alla fine è stata una partita condizionata anche da episodi perché abbiamo preso un gol dopo 30 secondi, che è una cosa talmente assurda. Però fa capire un attimino anche il clima dove ci troviamo e quindi l'accettiamo con grande serenità. Con il Novara ora sarà difficile, per vincere ci vogliono 4 gol di scarto. Sì, noi dobbiamo prepararla per fare una buona prestazione perché comunque giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi, quindi dobbiamo cercare di fare una buona prestazione. Poi nel calcio ci può essere di tutto perché comunque noi abbiamo dimostrato di avere anche il gol facile, quindi se ne riesce a fare uno o due può succedere di tutto. Però è chiaro che anche c'è il tipo di obiettivo, non è che abbia tanta motivazione, però si cerca sempre di fare il massimo. La Supercoppa quindi lascia il tempo che trova e domani da indiscrizioni harà un incontro importante con il presidente Campitelli? No, non ce l'ho in programma perché domani penso ci avrò allenamento e poi c'è questa partita, dopo lunedì non ci sarò, insomma non lo so. Non c'è in programma l'incontro? Non c'è in programma, no assolutamente. Non c'è in programma, no assolutamente.